Salmo 85, un salmo stupendo per fare crescere il nostro spirito. Gli autori ispirati sono i figli di cuore. Comincia così. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati. Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, Dio, nostra salvezza e placa il tuo sdegno verso di noi. Tutti i verbi, dal versetto 1 al versetto 4, parla al passato. Fa memoria di quello che Dio ha fatto per loro. Fare memoria è importante per poter attualizzare, per poter avere la luce sulla storia che Dio ha fatto e che farà con noi. Questo salmo si può definire il salmo del ritorno. ritornare è un'esperienza che il popolo di Dio ha fatto quando, a causa del loro peccato, è stato portato in esilio a Babilonia per 70 anni. Ciro ha liberato, ha fatto ritornare questo popolo di nuovo nella propria terra. e questo ritorno è stato visto dal popolo come una fedeltà di Dio e l'esilio di Babilonia come una purificazione. Questa è la chiave storica, naturalmente, ma dietro la chiave storica noi sappiamo che c'è la chiave personale. Anche noi abbiamo bisogno e dobbiamo improntare la nostra vita spirituale al ritorno. Come il padre del figlio prodigo aspettava il ritorno del figlio che, dopo aver fatto un'esperienza di esilio, che era un'esperienza amara, di traviamento, di disorientamento, di peccato, arrivato a un certo punto dice «Ritornerò alla casa del padre mio». Questo figlio che, prendendo coscienza del proprio peccato, vuole ritornare. E dall'altra parte c'è il padre, che in persona, Dio padre, che aspetta, aspetta con amore che il figlio ritorni. Il suo amore verso questo figlio che ha chiesto l'eredità, pur essendo il padre ancora in vita e ha dilapirato tutte le sue sostanze in malo modo, con una vita dissoluta. L'amore del padre non si è interrotto, ha continuato a sperare nel ritorno. Per noi è importante avere una spiritualità di ritorno, anche se non ci sentiamo traviati oppure persone. Chissà, questa sottigliezza del ritorno deve essere una costante per tutti. Ogni giorno si sperimenta la propria debolezza, la propria necessità di ritornare. Questo Salmo è il Salmo del ritorno, è il Salmo della promessa. Ci sono delle parole nel Salmo, adesso lo continuiamo, che sono meravigliose. La prima parte è che si fa memoria del passato, come per noi è importante fare memoria nella nostra vita, non ricordando solamente le cose negative. infatti se parliamo con gli altri, nelle discussioni con le persone, si parla sempre di problemi e di cose negative. Questo Salmo invece ci invita a fare memoria, elenca le cose buone della tua vita, scrivele in un quaderno, in un foglio, le cose belle nella tua vita, perché la tentazione è di ricordare solo ed esclusivamente le cose negative. fare memoria è la caratteristica di tutti i Salmi, fare memoria. Noi siamo chiamati a fare memoria. Continuando con il versetto 5, dice così, rialzaci Dio nostra salvezza e placa il tuo sdegno verso di noi, forse per sempre sarai dirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno. Vedete qui che i verbi di queste frasi della parte centrale del Salmo sono tutti al presente. Quindi dopo aver ricordato il passato, si ricorda l'adesso, il presente. Ci si rende conto che dopo aver fatto anche esperienze belle della liberazione che Dio ha fatto con noi, della forza che ci ha dato quando noi pensavamo di essere perduti, tuttavia nel presente sperimentiamo contemporaneamente la nostra debolezza, il nostro peccato. Molte persone rifiutano di considerarsi debole che possono sbagliare. Molte persone rifiutano di sentirsi peccatori. Infatti dicono ma io non faccio niente di male, io non ammazzo, non rubo, non faccio niente di male. Ma non è questo che ci esime dal sentirci deboli e peccatori in pensieri, parole ed opere. E San Giovanni nella sua lettera dice così Chi dice di essere senza peccato fa bugiardo Dio. Ci sono persone talmente cieche che si credono perfette. Questo modo falso di vedere se stessi li porta a non guardare l'amore gratuito di Dio verso i peccatori. Non è l'impeccabilità quello che fa di un uomo, di una donna, un cristiano, una cristiana. Quanto invece è importante l'incontro, il rendersi conto di quest'amore che è sopra ogni cosa, sopra ogni peccato, quest'amore che vuole condurti ad avere una relazione intima, profonda con Dio. Infatti, se nella prima parte del Salmo i verbi sono al passato, nella parte centrale del Salmo i verbi sono al presente, ora, adesso nella terza parte del Salmo dal versetto 7 al versetto 14 si parla al futuro, cioè dire le promesse che Dio ha fatto a tutti noi, ha fatto al popolo e a tutti noi, delle promesse che scavalcano la debolezza di questo popolo che è stato ammaestrato come anche noi siamo ammaestrati da Dio ogni giorno attraverso la storia. La storia di salvezza del popolo di Israele è la nostra storia di salvezza. Anche noi, la nostra vita è una storia, ma la vediamo come una storia di salvezza. Guarda che mi è capitato, oppure poteva andare meglio, oppure potevo avere un'altra storia invece della storia che ho vissuto, sto vivendo. ma ti sei riconciliato con la tua storia? Fai memoria per poter aprire il tuo cuore e i tuoi occhi, i miei occhi alla promessa che Dio ha fatto, che è meravigliosa, è una promessa che si realizza anche al presente tutte le volte che noi ci apriamo all'azione di Dio nella nostra storia, nella nostra vita, entrando non nella nostra volontà e nelle nostre prospettive, quando invece nella storia che il Signore sta facendo con noi che è in funzione della unione, della nostra felicità eterna, della nostra preparazione alla vera vita. Come vi dicevo, tutti i verbi sono al futuro come un qualcosa che si realizzerà in assoluto. Versetto 7 «Non tornerai tu forse a darci vita perché gioisca il tuo popolo, mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza». Ascolterò, vedete, tutto al futuro che cosa dice Dio, il Signore, egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna, vedete, abbiamo parlato che questo è il Salmo del ritorno e qui dice che la pace è garantita a chi ha questa spiritualità del ritorno, ha la spiritualità del figlio prodigo che dice «Ritornerò alla casa del Padre mio», sapendo che il Padre non ha cessato un attimo di amarlo e aspetta come sta aspettando me che facciamo un altro passo più avanti, più consapevolezza, più coscienza, più trasformazione, sempre in un cammino incessante che dura tutta la vita. Poi, in versetto 10, «La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra». In chiave storica questo si riferisce al ritorno nella propria terra dopo l'esperienza dell'esilio. Per noi, la nostra terra, il ritorno è quella terra che il Signore ha promesso a tutti noi, il Paradiso che è questa unione completa, totale con il nostro Creatore, felicità eterna, gioia eterna e completezza. Poi c'è il versetto 11 e 12 che sono stupendi, meravigliosi, che dicono così, «Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, amore e verità si incontreranno, sono legati, l'amore e la verità, perché? Perché non ci può essere uno senza l'altro, non si può amare senza verità, perché sarebbe una menzogna, io, sì, io ti amo, guarda, per te non so che cosa farei, però si è nella menzogna». No, la verità significa amare l'altro nella verità così com'è, lì dove sta, con il suo caratteraccio, se vuoi, amare nella verità, non nell'ideale che si ha dell'altro, ma nella verità dell'altro, non nell'ideale che noi abbiamo di noi stessi, di impeccabilità o di non so che, ma nella verità verso noi stessi possiamo amarci, senza verità non c'è amore, è semplicemente una menzogna. Questa promessa che Dio fa, si incontreranno queste due dimensioni del nostro essere, la verità e l'amore. Solo in questa unione si può realizzare la promessa. In questa strada si può realizzare Gesù. Il compimento di questa promessa e di questa unione è Gesù. Solo in Gesù tu puoi essere consapevoli della nostra storia, dell'altro e di noi stessi e poi con questa consapevolezza di verità che è Gesù amarci e amare gli altri si incontreranno. Questo verbo nella versione italiana c'è scritto si incontreranno futuro nella lingua originale è al presente. Cioè dire questa dimensione di amore e di verità che è Cristo è un presente e una verità che sta lì è Dio. Io sono la via la verità e la vita dice Gesù. Sempre nel versetto 11 dice giustizia e pace si baceranno. Un'espressione così poetica così bella giustizia e pace ma guarda io voglio solo un po' di pace io non cerco altro che la pace ma la pace è legata alla giustizia se la pace non è fondata sulla giustizia non è vera pace ma questo lo vediamo dentro e fuori di noi la giustizia è Gesù Gesù nostra giustizia rivestiti dice la lettera ai filippesi della giustizia della croce quindi non è la giustizia umana non è la giustizia legalistica no? del bilancino ma è la giustizia della croce che ti fa amare anche anche lì dove è così difficile amare ci sono persone che sono così difficili da amare vuoi la pace ama come Gesù ha amato al male rispondi con una parola gentile rispondi a volte senza rispondere con il silenzio facendo rispondere solo al tuo cuore che dice ti benedico ti benedico prego per te voglio il tuo bene così verità e pace giustizia e pace si baceranno il bacio è un segno di comunione profonda profonda poi continua dicendo quando il Signore elargirà il suo bene la nostra terra darà vedete il futuro darà il suo frutto qui si proietta veramente avanti si proietta nel libro dell'Apocalisse nella Gerusalemme celeste nella nuova terra cieli nuovi e terra nuova con tanta fatica si sta realizzando in noi ma si realizzerà in completezza con una storia compiuta e stiamo andando verso una nuova terra dice dove avrà stabile dimora la giustizia conclude proprio così con questo annunzio profetico poterci donare la speranza la gioia quell'amore che il nostro cuore ha sempre cercato dice davanti a lui camminerà la giustizia la giustizia di Gesù che è amore gratuito e sulla via dei suoi passi la salvezza questa salvezza che è garantita per te e per me basta crederci è importante la fede senza fede non si può piacere a Dio